Sono amici e chi perdona mi, dimmi come mai Libere, vitali e soprattutto sempre più consapevoli il 2023 è stato un anno di grandi successi per alcuni artisti del nostro panorama musicale non solo dal punto di vista professionale ma anche personale Elodie si è imposta non solo con le sue canzoni ma ha imposto il suo modo di essere e soprattutto di pensarsi libera Riconosco i miei valori, i miei limiti sto lavorando per essere una persona migliore e provo a farlo anche tramite il mio lavoro Ha viaggiato per tutta l'Italia macinando sold out e non ha avuto timore di posare completamente senza veli per il lancio di una canzone, incantando i fan ma anche scatenando grandi polemiche Anche per Annalisa il 2023 è stato un anno indimenticabile con Bellissima e Mon Amour è diventata regina assoluta delle classifiche ed è del tutto solidale con Elodie Noi donne in classifica siamo poche ma sempre di più il nudo di Elodie siamo libere Laura Pausini oltre alla gioia del matrimonio ha ricevuto il premio Persona dell'anno 2023 ai Latin Grammy un riconoscimento assegnato ad un artista per i suoi successi nell'industria musicale latina è l'unica artista non di lingua madre spagnola e terza donna ad essere mai stata premiata Grazie a tutti! Fuori dai nostri confini è stato un anno di grandi trionfi per Taylor Swift che ha scalato le classifiche di tutto il mondo facendo incetta di premi la celebre rivista Time l'ha nominata artista dell'anno Altra protagonista Shakira a cui la sua città natale Barranchilla in Colombia ha addirittura dedicato una statua in bronzo alta 6 metri e mezzo Lei che ha fatto delle sue canzoni un manifesto identitario e di riscatto contro il suo ex Gerard Piquet per tutti ormai le sue sono vere e proprie revenge song letteralmente canzoni vendetta con le quali la regina del latin pop non ha fatto sconti al suo ex coniuge Protagonista di un attesissimo tour mondiale anche Beyoncé ha trionfato ai Grammy 2023 aggiudicandosi ben quattro statuette sul palco ha incantato tutti con il suo look da sirena metallica